Ben trovati ragazzi! Siamo di nuovo qui da Elisabetta Mondo e quest'oggi presenteremo un paio di ricette molto particolari con il Baita Mix e il Lotus Grill fatte dal nostro chef Valerio Laudati e dal suo umile assistente Felice Mondo. Ma smetti! Chef da dove cominciamo? Allora io direi di cominciare a fare una bella vellutata di zucca, carote e sedano che facciamo col nostro Power Blender, il Vitamix, Power Blender numero uno al mondo. Cos'è Power Blender? Power Blender è un frullatore che riesce con la sua potenza ad arrivare a polverizzare sia in secco che in umido e di conseguenza ovviamente con polverizzare un umido che significa? Significa semplicemente che riesce a polverizzare le fibre e quindi tramite attrito delle molecole riesce a surriscaldare gli alimenti portandole a un massimo di 45 gradi quindi senza perdere quelle che sono le proprietà nutritive. E questa è una cosa ovviamente fondamentale nel momento in cui vogliamo assimilare appieno quello che la nostra natura ci dà e quindi questa è una cosa importante. Quindi vuoi dirmi che potrei cominciare a pensare di comprarlo per aiutare la mia alimentazione? Guarda sicuramente può farti soltanto che bene, magari detto da lui in questo momento sembra una cosa talmente fuori dal comune, però potrebbe essere un ottimo inizio. Anche perché insomma se fra qualche mese mi vedeste con qualche chilo in meno sarebbe sicuramente merito del Vitamix. E sarebbe un'ottima pubblicità a quel punto. Bene, allora ragazzi io ci proverò. E' una promessa che hai fatto davanti a milioni di spettatori eh? E qua sono cacchi adesso eh, qua la devo mantenere. Allora... Senti, ultima domanda. Sì. Ma perché dovrei comprare questo robot da cucina piuttosto che un altro? Ok, bellissima domanda. Allora diciamo che inizia innanzitutto come dicevo prima rispetta gli alimenti. Che vuol dire rispetta gli alimenti? Rispetta significa che ci fa conservare appieno quello che sono le proprietà nutritive degli alimenti stessi. Questa è una cosa fondamentale che attualmente credo che nessun altro possa riuscire a fare creando dei piatti unici. Cioè nel senso io riesco a creare una zuppa non arrivando oltre i 45 gradi. Quindi magari avere una zuppa calda ma non cotta. Che quindi insomma in maniera salutare riesce a darci tutto quello che vogliamo. Bene. Questa è una cosa che solo questo riesce a fare perché ripeto non ci sono resistenze all'interno ma semplicemente le molecole, l'attrito delle molecole... Se non sbaglio a due cavalli di potenza, giusto? A due cavalli di potenza... Come la Diana di una volta. Ragazzi, spettacolo. È un motore meccanico quindi insomma è quasi indistruttibile nel senso che è proprio difficile. Non è un motore elettrico che invece può essere soggetto a fusione della scheda elettronica. Questa è la cosa fondamentale. Allora abbiamo messo all'interno tutte quante le nostre verdure ovvero ripeto carote, zucca e un po' di sedano. Andiamo ad aggiungere un po' d'acqua perché a seconda di quanta acqua mettiamo tanto più avremo una crema, una vellutata o una zuppa. Quindi ovviamente la scelta della quantità di acqua è veramente soggettiva. Bene, bene, bene. Andiamo a tappare, come vedete va all'incastro completo e possiamo anche attivarlo. Dal momento in cui l'attivo ovviamente passeranno 4 minuti e dalle verdure fredde appena messe, comunque appena messe dal frigorifero, avremo la nostra zuppa calda. E quindi vado a partire. Ok, allora dopo un minutino circa aggiungiamo ovviamente sale e aggiungiamo perché no anche delle arachidi. Quindi semplicemente prendiamo un nostro pugnetto e poi un po' di sale. Giusto un poco. Perché poco sale? Perché ovviamente mantenendo appieno le proprietà nutritive il sale deve essere giusto pochissimo perché c'è l'esaltazione del sapore stesso, quindi non c'è bisogno. E poi continuiamo per altri 3 minuti e mezzo. Sono passati i nostri 4 minuti. Valerio, camo combinato. Allora, semplicemente abbiamo ottenuto la nostra zuppa di calda. Wow, bellissimo. Ma fuma. Sì, sì, fuma, fuma. Ti ripeto, abbiamo ottenuto i 45 gradi lì dove abbiamo ottenuto la nostra zuppa calda senza perdere le proprietà nutritive. E siamo pronti a mangiarla, ma te non la faccio mangiare. Non è vero, dai. Cattivo. Dai, dai. Eccola qua. Il colore è bello denso. Ovviamente possiamo aggiungere tranquillamente qualche crostino per renderla anche un po' più croccante, così. Io ci metterei un po' di peperoncino, però sono gusti, quindi poi... Assolutamente, sì, proprio peperoncino e zucca sta perfettamente. Ed eccola qua, la nostra zuppa. Andiamo all'assaggio? Che dici? Perché no? Spettacolo! Buonissima. Complimenti, ragazzi. Complimenti Valerio, complimenti al Vitamix. Ok. Valerio, grazie mille. Grazie. Un saluto a tutti, alla prossima ricetta. Alla grande.